Allora, prima di cercare di svolgere al meglio il compito che mi è stato affidato, un ringraziamento a Stefano che stamattina poi nelle corse non ho fatto in tempo a ringraziare per l'amicizia e anche perché, e mi onoro di questo, nel mio percorso di trattamento della fibrillazione atriale con il PIVA che è stato il mio tutor, per cui molte delle cose che vi dico, buone o meno buone, sono responsabilità mia ma anche un po' sua. La mia relazione volevo dividerla in due parti, la prima era un rapido excursus su quelle che sono le caratteristiche tecniche della tecnologia Faced RF, Duty Cycling, con il confronto con quelle che sono le caratteristiche della radiofrequenza convenzionale e poi valutare un attimo nella pratica clinica e negli studi quali sono i risultati sia dal punto di vista dell'efficacia ma anche dell'efficienza e della sicurezza delle due metodiche. Se noi andiamo a trattare la fibrillazione atriale con radiofrequenza convenzionale, abbiamo la necessità di utilizzare cateteri raffreddati perché questo è il modo con cui noi riusciamo a sviluppare e a mantenere un'energia adeguata e ad evitare la formazione di coaguli. Nella radiofrequenza Duty Cycle l'energia viene di per sé erogata alternando in un secondo diverse volte le fasi di raffreddamento con le fasi di riscaldamento. Questo comporta la possibilità di mantenere una temperatura sufficientemente stabile e contemporaneamente sufficientemente profonda. si riesce ad arrivare in maniera adeguata e in profondità. Per questo motivo il sistema, se confrontato con la radiofrequenza tradizionale, si consente ed è una cosa insita nella possibilità di alternare riscaldamento e raffreddamento, la possibilità di mantenere una densità di corrente stabile e adeguata ad avere lesioni profonde e continue. La profondità della lesione è maggiore e l'omogeneità della lesione è maggiore, proprio per questa caratteristica insita nella modalità con cui si esprime la radiofrequenza con questo sistema. In questo sistema noi abbiamo una miscela, combinata in vario modo, di due modalità diverse di erogare la radiofrequenza. Una modalità unipolare che privilegia la profondità della lesione e una modalità bipolare che privilegia la continuità della lesione. L'operatore può scegliere se sviluppare di più la modalità bipolare con il modo 4-1, 80% bipolare, 20% unipolare, o andare in alcune regioni, in alcune parti dell'atrio sinistro a privilegiare la modalità unipolare per andare più in profondità e generare una lesione che sia maggiormente transmurale. La scelta può essere anche motivata dal fatto che l'atrio sinistro presenta anatomicamente delle caratteristiche di spessore diverse, maggiore in corrispondenza della parente anteriore, minore in corrispondenza della parente posteriore. L'operatore può scegliere l'energia sia in relazione al fatto che voglia arrivare a una maggiore transmuralità, sia anche per essere più rispettoso in zone in cui l'atrio sinistro è più sottile. Il catetere stesso per la sua forma consente una maggiore stabilità, oltre ad essere un'energia interessante per le caratteristiche che vi ho raccontato, è il catetere stesso che guidato, ben posizionato da una guida da emodinamica 0,35-0,38 inserita nella vena polmonare, per la sua forma si garantisce una buona stabilità, un contatto stabile con il tessuto. A confronto le lesioni provocate dalla radiofrequenza convenzionale, irrigate dalla radiofrequenza duty cycle phased, presentano queste caratteristiche. La radiofrequenza convenzionale ha in sé un maggior rischio di trombosi, e voi pensate a chi ha cominciato a fare l'abbazione in periodi eroici, in questi periodi sono stati usati i catetere 4 e anche 8 mm convenzionali, che tipo di rischio noi generavamo per il rischio semplicemente della trombosi sopra la zona ablata. La radiofrequenza irrigata evita questo problema, ma la radiofrequenza duty cycle phased presenta, oltre al fatto dell'assenza della trombosi, anche un'estrema omogeneità, ben definizione delle lesioni. In assoluto, la prima conclusione sulle note tecniche di questo tipo di tecnica che noi possiamo utilizzare per gestire l'ablazione della fibrillazione atriale, possiamo dire che la radiofrequenza phased usa gli stessi principi di quella convenzionale irrigata, ma li applica semplicemente in maniera differente. È sufficiente l'alternanza, raffreddamento e riscaldamento per garantire la profondità e l'omogeneità della lesione con la possibilità di scegliere tra la modalità di energia unipolare e bipolare. In vivo, le lesioni ablative generate dalla radiofrequenza irrigata e dalla radiofrequenza phased sono lisce e senza coaguli. Veniamo adesso agli studi che ci confermano dati di efficacia, di efficienza e di sicurezza di questa metodica. Per quello che riguarda i dati di efficacia, studi comparativi tra la metodica PIVA che la metodica di radiofrequenza irrigata con mappaggio 3D concludono per una equivalenza di efficacia nel breve, nel medio, 12 mesi e anche nel lungo termine. Potenzialmente con una interessante prevalenza della metodica PIVA nel breve termine. Comunque, anche nel medio e nel lungo termine, la metodica PIVA nulla ha da invidiare alla radiofrequenza irrigata tradizionale. Mi piaceva anche proporvi e presentarvi questa serie di risultati, sempre nel breve, nel medio e nel lungo termine, in relazione all'abblazione della fibrillazione atriale persistente, di lunga durata, associando al PIVA i due cugini diretti, i cateteri, che consentono di ampliare le lesioni a livello dell'altro sinistro. Mi piaceva perché uno dei protagonisti di questi studi è proprio Stefano e i numeri che noi possiamo vedere sono numeri assolutamente interessanti considerando il tipo di patologia che è stata abblata e sostanzialmente sovrapponibili a quelli che la letteratura ci dice essere i risultati della radiofrequenza irrigata. Per quello che riguarda l'efficienza non c'è storia. Dal punto di vista del tempo procedurale, in tutte le casistiche l'uso del PIVAC abbatte i tempi procedurali, nelle casistiche sia cliniche sia negli studi. Oltre ad abbattere il tempo procedurale, inatteso forse come dato, anche il tempo di medio di fluoroscopia è estremamente ridotto. Noi pensiamo che l'utilizzo della radiofrequenza irrigata con il mappaggio non fluoroscopico sia con basso tempo di fluoroscopia. I tempi medi del mappaggio, della ricostruzione della camera e dell'erogazione prevedono comunque l'uso di fluoroscopia che se si utilizza in maniera adeguata il PIVAC viene mediamente ridotto o comunque, quantomeno, con una riduzione non significativa rispetto ai tempi medi della radiofrequenza irrigata. Sicurezza. Il PIVAC è stato un po' demonizzato nel primo periodo del suo utilizzo per il sospetto che potesse, non essendo irrigato, generare eventi tromboembolici. In realtà si è visto che i primi studi avevano documentato lo sviluppo di embolia gassosa legata al sistema di introduzione del PIVAC in atrio sinistro e successivamente, migliorando questo sistema e passando anche al miglioramento del PIVAC stesso, dal platino all'oro, si è avuto un abbattimento netto anche di questi eventi di embolia gassosa che peraltro non erano stati rilevati con le metodiche alternative. Adesso, confrontando il PIVAC e la metodica tradizionale nelle survey di Scharf e di Cappato, c'è una sostanziale equivalenza di problemi. Nelle metanalisi di Andrade e di Colkins vediamo che in realtà l'uso del PIVAC comporta un minor rischio di due eventi che sono a volte evidenziati dall'uso della radiofrequenza irrigata. La stenosi della vena polmonare e il tamponamento perché l'erogazione con il 4 mm irrigato espone più spesso a un'erogazione all'interno della vena ed è più traumatica rispetto all'erogazione lungo un anello. Questa è un po' un confronto di varie metodiche studiate e dopo una fase iniziale in cui il PIVAC dava potenzialmente la presenza di eventi ischemici cerebrali che non si sono confermati attualmente si pone a livelli estremamente bassi rispetto ad altre metodiche. Questo secondo me è l'aspetto più bello e più interessante per l'uso di una metodica come il PIVAC che si colloca nel gruppo delle metodiche one shot. È possibile una ridotta learning curve e soprattutto anche in centri con un medio-basso carico di lavoro in cui comunque tutte le volte che si comincia un'ablazione se si usa il sistema tradizionale si ha una necessità di una ripresa di apprendimento del sistema questo è un evento estremamente smorzato con l'uso del PIVAC. In centri di medio-basso volume si tratta di una metodica che dà degli ottimi risultati sovrapponibili a quella tradizionale in tempi brevi e con una esposizione fluoroscopica estremamente bassa. Arrivo alla seconda e ultima parte delle mie conclusioni nel confronto con la radiofrequenza tradizionale e con l'uso di cateteri irrigati questo sistema presenta una sostanziale non inferiorità in termini di efficacia sicuramente in termini di efficienza è superiore e la sicurezza parliamone. La procedura ablativa è resa dal sistema più semplice e soprattutto sempre meno operatore dipendente cioè questo è un sistema che ci consente di standardizzare la procedura ablativa che fino all'uso di questo sistema era molto legata all'operatore ai suoi desideri, alle sue volontà alla sua esperienza, alla sua bravura però comunque condizionata al fatto che la facesse un operatore particolare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Decise di fare il ginecologo perché delle aritmie non ne capiva niente e non riusciva a starci dentro. Allora una notte io feci un disegno ed è questo qua. Dessi guarda Valentino in realtà il mondo delle aritmie non è un mondo complicato perché sono sopraventricolari. Quindi il flatter atriale, la fibrillazione atriale, l'ectopia atriale. Poi c'è il mondo delle tachicardie da rientro, i circuiti. Poi c'è la pre-eccitata e c'è la tachicardia ventricolare, è tutto là. Quindi tutto il mondo che tanto fa paura è tutto in questo schema che se riuscite a portarvi dietro può avere una utilità. Un altro ricordo è questo che le aritmie a complesso QRS stretto sono tutte sopraventricolari. Siccome tra l'altro sono il 90% delle aritmie nel mondo pratico e siccome sono quelle più tollerate possiamo essere tranquilli, possiamo affrontare quell'argomento che tanto fa paura, specie nell'area della emergenza medica. Allora, prima sfida, vediamo se c'è Giancarlo Serino. Giancarlo Serino non c'è. Allora, tu, va bene? Ecco. Allora, che cosa ne pensi? Praticamente Flora ha cardiopalmo in pronto soccorso, che diagnosi fai? Possiamo partecipare un po' tutti quanti, eh? Ok, è una fibrillazione atriale. Una fibrillazione atriale perché è chiara l'esistenza delle onde F e degli intervalli R irregolari. Come giustifichiamo questo? Allora, che cos'è la fibrillazione atriale? Sono microcircuiti da rientro, 500, 600 che scarichi ogni minuto a fronte di un nodo del seno che non funziona più perché è estordito. Ogni microcircuito dà come identificazione scritta sulla linea e sulla traccia delle piccole onde F, che noi chiameremo onde F piccole. Sono onde più larghe, più alte, più strette, più larghe, tutte quante diverse le une dalle altre. Non ce n'è una identica all'altra. Diversamente dall'unico onda P, che è sempre identica, è sempre la stessa. Come facciamo a giustificare l'intervallo R, 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 sempre caoticamente irregolare? Per queste due parole, conduzione decrementale e conduzione occulta atroventricolare. Che cosa significa? Significa che soltanto gli impulsi più forti, quelli più violenti, riescono ad attraversare il nodo atroventricolare, che è questo qua. Altri impulsi, sempre forti, ma non tanto riescono ad entrare, ma non ad emergere, o addirittura a non entrare pur potendolo fare. Tutti quanti gli altri sbattono contro un muro di non vulnerabilità e vengono bloccati. E questa si chiama conduzione atroventricolare occulta. Conduzione decrementale è la condizione secondo la quale più impulsi vengono dall'alto, più refrattarietà c'è. Perché il nodo atroventricolare è stato posto là, a difesa del ventricolo. Immaginate voi se tutte e quattro, cinquecento impulsi passassero ed investissero e costringessero il ventricolo a contrasti quattro, cinquecento volte al minuto, il cuore andrebbe in shock, si fermerebbe in un nodo atroventricolare, sta là per difendere, per filtrare, per impedire che troppi impulsi giungono nel ventricolo. Quindi quando più scarica c'è dall'alto, tanto più si difende allungando la propria capacità di filtrare. Allora, i criteri maggiori sono due, onde F piccole e distanze RR sempre diverse. Qualche volta le onde F non si leggono bene. Allora, il criterio maggiore, l'unico vero criterio maggiore è questo, intervallo RR caoticamente irregolare. D'accordo? Tanto è vero che Noemi ha una fibrillazione atrale perché pur non identificando noi onde F, ma c'è la distanza RR sempre diversa, non può che essere fibrillazione atrale. Va bene? E questa è una regola. A questo punto Gian Gallo non c'è, quindi sembra a te la domanda. Noi abbiamo qualche volta la traccia di onde F, però gli intervalli RR sono regolari, quindi viene a mancare ciò che avevamo detto essere il criterio vero della fibrillazione atrale. E questa cosa qua succede tante volte nell'area dell'emergenza critica. Avete un'idea di che cosa posso essere? Perché è sempre una fibrillazione atrale. Bravi, bravi. È una fibrillazione atrale dissociata. Cioè succede che il nodo atroventricolare è completamente assordito, non funziona, per cui alcun impulso dall'alto passa e viene giù. Per cui ho un nodo, ho un focolaio di scappamento, di sopravvivenza che scarica, in questo caso essendo il QRS stretto, scarica per essere nell'area dell'aggiunzione. Quindi prende il fascio dis, va giù, ha complesso praticamente stretto. Perché è importante fare la diagnosi? Perché cambia tutto? Perché da un'aritmia ipercinetica, quella della fibrillazione atrale, diventa aritmia ipocinetica, quindi va affrontato in modo completamente diverso. Bisogna elettrostimolare il cuore, non basta soltanto frenare il passaggio degli impulsi. Questo è un altro caso, vedete, onde F sono presenti, però RR regolari, quindi è una fibrillazione atrale, ma con blocco atroventricolare. Ancora un altro esempio, FF presenti, però distanze, intervalli RR regolari, perché c'è un focus di scappamento, di sopravvivenza, che in questo caso, praticamente questo è un QRS largo, potrebbe anche partire da un po' più giù dal ventricolo, però il concetto è quello, una fibrillazione atrale dissociata merita elettrostimolazione, al di là di eventuale terapia di freno, nei confronti dei tanti impulsi che dall'alto vengono e vanno giù. E questa è una cosa che capita spesso, di fronte alla quale tanti di noi restano perplessi. Allora, altra sfida, c'è Daniele Molinari. Ah, Daniele, hai visto? Daniele, allora cosa pensi di questa cosa qua? Dai. Ok, è un flatter, che tipo di flatter? Eh? Tipico, ok, comune o non comune. Allora, lui si è orientato, per chi non... Allora, che cos'è il flatter atreale tipico? Il flatter atreale tipico è un unico circuito che si erifica nell'altro destro, macro circuito, perché percorre la cresta terminalis, la vena a cava superiore, vicino all'imbus della fossovale, la vena a cava inferiore, la zona dell'istima, e fa così, praticamente, e può correre l'impulso in senso anti-orario tipico comune o in senso orario tipico non comune. D'accordo? E, essendo il circuito enorme, grosso, che percorre tutto l'atro, ha un vettore, ha un vero vettore elettrico, e il vettore si identifica in una morfologia chiara dell'onda F grande, che è di un tipo nella forma anti-orario e comune, ed è un altro tipo la forma oraria, non comune orario. Praticamente la forma anti-oraria, quella che più si verifica nella pratica clinica, presenta un'incisura negativa, un'ascensa rapida e discesa lenta, incisura negativa, un'ascensa rapida e discesa lenta, semicircolare è la morfologia dell'altro tipo di flatter, tipico non comune, quello che ha praticamente il circuito orario. Guardate, le onde F si vedono bene soltanto in D2, D3 da VF, però si vedono, non c'è linea isoelettrica, vedete, in un immaginario di linea, l'onda è come se baciasse la linea e poi andasse su di nuovo, e poi scappate, vende, non c'è linea isoelettrica e poi scarica almeno 300 impulso al minuto. Questo è importante per differenziare successivamente con un'altra aritmia pur comune. Va bene? Ok, ho un flatteratrale tipico comune. Vi do una informazione non attesa, perché guardate bene la D2, adesso la ruoto, vengono fuori i denti di sega. i denti di sega, che tanto si dice essere appartenere al mondo del flatter, appartiene soltanto al flatter tipico comune, perché, guardate bene, questa è la forma non comune, vedete, la semicircolarità delle onde di attivazione del circuito, ben evidente in D2, D3 da VF, non c'è linea isoelettrica, scarica 300 al minuto. Quindi questo è un flatter tipico non comune. Se io ruoto la D2, ma non si disegnano i denti di sega, perché c'è la semicircolarità. Quindi si sfato un altro concetto che è comune, ma in senso errato, in tutti quanti noi, che è il flattera i denti di sega. No, i denti di sega appartengono soltanto al flatter tipico comune, su una D2 rovesciata. Va bene? Altro esempio, vedete, incisione negativa, scesa rapida, discesa lenta, incisione negativa, scesa rapida, discesa lenta, D2, D3 da VF, non c'è linea isoelettrica, e scarica 300 in bulso al minuto. Ogni quadrativo è 300, va bene? Quindi il flattera è un flatter tipico comune, e qua c'è la semicircolarità, flattera della tipica non comune. Ok, il mondo del flatter è andata. Altra sfida, Alfonso Carrera, che non c'è. Allora, andiamo avanti con te, perché sei stato bravo. Allora, che cosa ti sembra questa? D2, D3 da VF tu vedi niente? Dove vedi qualche cosa? Vedi in V1? Ok, un aiuto, vedi, le onde di attivazione atriale, questa non è un'invenzione, questo non è un artefatto, perché si ripete in continuazione ogni volta, questa distanza è identica a questa, identica, per cui queste sono delle onde di attivazione con una frequenza di scarica, però di 180 al minuto. Allora, questo ci porta nel mondo della tachycardiaterale ecotopica. Ora, non diciamo perché, ci interessa poco, se per aumentato automatismo, per posto potenziale, per circuito, non interessa. Il fatto sta che c'è un gruppo di cellule che scarica, ed io questa condizione la identifico bene, soltanto in V1, non in D2, D3 da VF, ecco perché vi si dice aprite alle 12 derivazioni, perché trovate sempre il messaggio in qualcuna di esse. Quindi in V1 c'è linea isoelettrica, va bene, e scarica massimo 220-240 impulso al minuto. Quindi sono dei criteri maggiori, completamente diversi dal Flatter. Va bene, tanto è vero che lui aveva, guardate, una frequenza di 180 come scarica, linea isoelettrica in V1, D2, D3 da VF, non si vede assolutamente niente. Ok, importante perché? Perché frequente nell'intossicazione digitalica, questa è la ritmia classica dell'intossicazione digitalica. Non scrivere niente, non scrivete niente, attendetevi di stretta, e va. Poi vi comprate degli appunti, vi do il file, ma non scrivete niente, perché dovete seguire il senso delle cose. Allora, ora, praticamente, in genere, conduce di uno, una P è bloccata, l'altro conduce, una P è bloccata, l'altro conduce, qualche volta, questa è bella, per aumentato automatismo, ho una frequenza di scarico, 1 a 1, qualche volta 4 a 1, 1, 2, 3, 4, o 1, 1, 2, 3, 4, o 1. Va bene? Ok, provoco. Non Alfonso, perché Alfonso non c'è, sempre tu. Allora, che cosa ti sembra questo? guarda, D2, D3 da VF, si vede niente, praticamente. Praticamente, apriamo in V1, perché la derivazione di studio ottimale per l'attività triale è D2 o V1, ok? Tant'è vero che le strisce di monitor vanno a corrispondere ad una D2, ok? Allora, vedete, notate, queste onde di attivazione atriale, linea isoelettrica, solo in V1, in D2, D3 ed AVF, quindi sembrerebbe una tachicardia atrale ectopica. Ti sembra o non ti sembra? No, se non ti sembra, dimmi perché. Eh beh, ma c'è un motivo? Ok, lui è preparato. Allora, nel momento in cui io vedo niente in D2, D3 ed AVF, vedo qualcosa in V1, che c'è l'invisa elettrica, praticamente c'è qualche cosa, ma la scarica è più di 220, 300 in pulso al minuto e il flatter atrale atipico però, che è questa condizione qua, vedi? È un circuito da rientro, non è il macro circuito da rientro del flatter atrale tipico, è un micro circuito che sta là attorno ad una zona degenerata per fibrosi, per ischemia, per squilibrio di elettrolitico, per squilibrio acido basico e la condizione, praticamente, essendo un micro circuito, non ha un asse, non ha praticamente un vettore importante e grosso come nel flatter atrale tipico, per cui, l'identificazione si ha con delle piccole onde, non con quelle grandi onde, incisure che ti va a scessare, più di scessa lento, semicircolare, come nel flatter atrale tipico, sono delle piccole incisure, senza alcuna morfologia, che tu vedi bene in V1 e V2, che scarica 300 in pulso al minuto. Ecco, è questo, praticamente, questa storia si ripete in Gesualdo, vedete, in D2, D3 da VF, vedete assolutamente niente, apriamo la V1, vedete queste onde, che però, c'è l'inviso elettrica, ma scaricano a 300 in pulso al minuto, è un flatter atrale atipico. Ed è un guaio, perché tu del flatter atrale atipico, per interrompere l'aritmia, dovresti capire qual è il motivo che l'ha determinata. E tu riesci ad interrompere il circuito soltanto se blocchi il motivo, altrimenti è difficile che tu ce la possa fare neanche con la terapia elettrica. Mentre con la terapia elettrica ce la fai per il flatter atrale tipico, ma non ce la fai per questo. D'accordo? E poi, un'altra considerazione, se tu confondi questa con una tachicardia atrale ectopica, essendo la tachicardia atrale ectopica da intossicazione digitalica, se è una tachicardia atrale ectopica, tu non te ne accorgi, e passa per un flatter, e dai la digitale, non fai una cosa certamente adeguata. Ok? Quindi è importante questa diagnostica differenziale. non più a te, perché sei capace di rispondere bene, per cui non mi diverto. A lui invece, ti devo provocare un po'. Allora, questa cosa qua, è una fibrillazione atrale, è un flatter o è un fibrillo flatter? E se sa anche a voi la cosa, eh? L'analisi la fai nella tua mente, a me devi solo dire che cosa ti sembra. Allora, un flatter, no, è sbagliato. Allora, molti direbbero un fibrillo flatter, va bene? In realtà, è un concetto che non deve più passare, perché io o nell'altro c'è la fibrillazione o nell'altro c'è il flatter. Non può esserci praticamente una condizione tale che prevede entrambi. Ok? Quindi, tante volte si scrive fibrillo flatter e si sbaglia. Quindi, o è fibrillazione atrale o è flatter atrale. Ci sta un terzo criterio che è a vantaggio della fibrillazione atrale e questa qua, intervallo F. Cioè, l'intervallo che passa tra l'ultima onda di attivazione atrale e il QRS che è sempre identico sia nel flatter che nella tridiatra ectopica, è sempre diversa invece nella fibrillazione atrale. Tanto è vero che a vedere questo, vedete, questo tempo è diverso da questo. Qua si allarga ancora, qua si stringe un po', qua sta qua dentro, d'accordo? È sempre diverso. anche se poi, a guardar bene, le onde F sono a morfologie diverse perché certamente quest'onda di attivazione atrale e di fibrillazione atrale è diversa da questa. Questa è diversa da questa. Questa è diversa da questa. Ed uno dei criteri maggiore è quella della morfologia sempre diversa delle onde di attivazione atrale nel senso che possono essere più sette più larghe, più alte, più basse, più vicine, più lontane. C'è il caos, tanto caos che si chiama aritemia sopraventricolare totalmente desincronizzata. È quella della fibrillazione atrale. Va bene? Poi, a guardare bene anche la distanza è rara e comunque era irregolare. Però, la illusione ottica di queste onde così ben disegnate di porta verso il flat. Probabilmente una mia idea è che è una fibrillazione atrale che non scarica 5-600 microcircuiti al minuto ma ne scarica 200. Per cui ogni microcircuito ha un onde un pochettino più un po' meglio disegnato. C'è Valerio Pergola? Valerio? Ok, Antonino, dai. Antonia, dai. No, Antoni, questa è proprio tua che è da grande. Allora, Pasquale ha una disponendenza e dà questa situazione qua. Che cosa ha pensato? Un po' tutti quanti. Queste sono le aritemie più comuni. Cosa ha pensato? Guardate, ci sono almeno tre onde P a morfologie diverse più o meno su una frequenza di scarica su 100 con degli intervalli P-P-S-M-B-A tecra diatrale ecotopica polifocale. Perché è importante? Questa ha lo stesso significato del flattera tipico. È provocato da condizioni tutt'altre che primitivamente cardiologiche. Sarà intossicazione digitalica, sarà stato ipossico per cappinico, sarà un alterato squilibrio idroelettrolitico sarà per piacchi altrati. Bisogna essere capace di capirne il motivo ed aggredire questo. Perché a vederla così sembra una fibrillazione atriale. D'accordo? Poi vedete e ci sono delle onde di attivazione atriale che in realtà sono ben definite. In questo caso almeno tre. Questa vedete che si ripete qua qua poi c'è questa che si inverte negativa come praticamente la vedete pure qua e poi c'è quest'altra morfologia un po' più piana. Sono almeno tre morfologie il tracciato a vederlo così improvvisamente è così d'amble sembra una fibrillazione atriale in realtà invece è una trigradia ectopica polifocale polifocale e queste qua sono almeno tre focus che contemporanei va bene adesso sempre provocazione arriva analisa sappiamo che è una cardiodilatata giunge per shock andiamo in V1 vediamo che in realtà ho una P un piede forse un po' lungo ma tutto sommato non vediamo grandi cose voi invece vedete qualcosa che motiva dice perché stai in shock a un certo momento qualcuno mi fa guarda lì c'è questo c'è questo st alti in D2 D3 da VF io dico no non è quello il motivo ve l'ho portato perché in realtà è un flatter atratipico non comune questo che vedete qua non è altro che l'onda da flatter che macchia la st e te la fa diventare un po' alta e ti fa credere che sia una trasmoralità della zona inferiore in realtà questo aveva gli essiti di un infarto inferiore ma questa è un'onda da flatter onda semicircolare vedete bene 1,2,3 1,2,3 1,2,3 D2 D3 e AVF scarica più o meno quasi 300 non ha non ha la linea isoelettrica quindi un flatter atratipico non comune ora è chiaro che un cardiodilatato che ha una frazione di iniezione del 25% una aritmia del genere superindicolata la fa crollare del 40% scende a 10-15% va in shock ok eh eh sì senso va beh è facile dire il dopo però quando meno questo vi mette nelle condizioni della possibilità di potervi trovare la coscienza di potervi trovare di fronte ad una condizione del genere chiaro non tachicardico eh sa in genere la sofferenza da tachicardia così come Mario un infermiere fa l'ECG per sorveglianza sanitaria Ancela Morsa una nostra collega che adesso sta ischia sale da vicerì questo è un frattere che devo fare però sta bene in realtà era un cellulare che scaricava e dimostra come scarica il cellulare 280 impulso al minuto ok e quindi annotate anche questa cosa qua allora circuiti da rientro che fanno tanto in realtà i circuiti da rientro sono due cioè il circuito nodale e il circuito atrioventricolare e sono questi qua questi sono nodale perché il circuito si svolge nel nudo atrioventricolare nel nodo atrioventricolare perché si svolge tra l'atto e il ventricolo con l'impegno del fascio di Kent incominciamo a parlare del primo Gennaro Perna immagino che non ci sia immagino che non ci sia dai allora tu come ti chiami? Mauro Mauro dai allora praticamente scarica 212 impulso al minuto il complesso è stretto onde P non se ne vedono un aiutino ti spiego che cos'è il circuito nodale zruva fast allora il nodo atrioventricolare è formato da fibre calcio dipendenti qualche volta alcune fibre conducono in modo lento altre fibre conducono in modo rapido cosa può succedere? può succedere che un impulso ectopico atriale può entrare nel nudo e inizia a percorrere il fascio a conduzione lenta condotto l'impulso a questo punto cosa fa? in contemporanea va giù lungo il fascio dis formato da fibre sodio dipendenti fibra elettrica quindi rapida in un attimo sta giù attivi il ventricolo del compresso querese stretto in contemporanea però percorre anche il fascio veloce e attiva l'atrio lo retroattiva dal basso verso l'alto tant'è vero che se io mi posizionassi in D2D3 da VF del triangolo di Enthoven vedrei l'onda P come invertita a polarità inversa perché il vettore va dal basso verso l'alto quindi lo vedo allontanare il problema è che l'attivazione ventricolare quella atreale avviene in contemporanea per cui l'Ap è disegnata ma sta compresa nel QRS per cui non la vediamo allora quali sono i criteri maggiori il complesso QRS è stretto perché è condotto lungo il fascio di Issa conduzione rapida per cui si stringe il complesso l'onda P è nascosta e la frequenza è alta per cui il nostro paziente avendo un complesso QRS stretto frequenza 220 non c'è l'onda P ho fatto diagnosi diagnosi di tachicardia da rientro nodale slow fast perché conduce prima lungo il fascio lente e poi lungo il fascio perfetto vedete la stessa cosa è questa 217 impulsi complesso il QRS stretto l'onda P non si vede perché è nascosto nel QRS questo è un circuito nodale da rientro slow fast ed è il più frequente ed è quello sul quale noi ci giochiamo tutta la nostra capacità di essere dei maghi perché nel momento in cui io che terapia faccio Manolo Vagal o il calcio antagonista essendo queste fibre calcio dipendenti se io faccio il calcio antagonista voi sapete perché tutti quanti voi l'avete incontrato questa ritmia si interrompe 10 secondi quindi il paziente è contentissimo i miei parenti dove fate lo studio vi porto mio padre mia madre mio cugino succede tutte queste cose qua questo qua vedete con la manovra di simulazione vagale è passata è tornata il ritmo sinusale e questo era 190 impulsi al minuto complesso il QRS stretto l'onda P non la vedo eppure questo 218 impulsi al minuto il QRS stretto l'onda P non si vede con il verapamil o la adenosina va via ma va via in 10 secondi va bene se non si riesce con il farmaco in contemporanea fate farmaco e manovra vagale perfetto allora chi dice questa chiarittimia? voi la sapete solo che per timidezza per timidezza non vi esprimete allora per capire questa cosa bisogna vabbè è un circuito da rientro l'altro ventricolare va bene per capire questa cosa bisogna parlare della precitazione ventricolare ora siamo amici tutti quanti va bene io vi conosco tutti quanti chi conosce realmente il mondo della precitazione? senza vergogna alzate la mano non alzatela non la conosci? ok no no mi fa piacere come ti chiami? come? Emiliano è passato i tuoi guai Emiliano vieni qua vieni Emiliano dai perché no sei timido allora che cos'è il mondo della precitazione? questo siamo noi nodo del seno nodo del attore ventricolare fascio dis quindi il ramo del sinistro attiva il venticolo del venticolo sinistro c'è qualche volta qualche cosa che conduce l'impulso direttamente dal latino al ventricolo questi fasci il gem se maim non ne parliamo affatto il maim è raro il gem se non ha alcun significato parliamo invece del fascio di kend il fascio di kend significa wolf parkinson white che cos'è? grazie che cos'è? il sinistro di wolf parkinson white perché agli inizi del 1900 tre esperti in contemporane si trovano a studiare questa sindrome wolf parkinson white tanto è vero che quando a wolf si dice vada la sindrome si chiamerà parkinson white si incazzò dice perché io così allora chiamano wolf parkinson white le fibre sono dislocate in questi punti praticamente o nel setto nella perita posteriore o nella perita anteriore e quali sono le origini che cosa sono queste fibre muscolari nella vita prenatale gli atri fino all'ottavo mese venivano ad essi al ventricolo attraverso queste fasce muscolari quando all'ottavo mese si incomincia a creare lo scheleto fibroso queste fibre scompaiono degenerano ok qualche volta resistono ed è un problema perché è un problema come riconosce è un problema perché vedete perché vedete l'impulso quando dal nodo del seno si trova nel nodo atroventricolare viene per un attimo bloccato oltre al fatto che il nodo atroventricolare ha la capacità di bloccare l'eccesso degli impulsi che partono dall'altro e di filtrarli non li fa passare tutti quanti proprio a difesa del ventricolo per cui se si crea un flatter che scarica 300 impulsi al minuto non passano ne fa passare uno su due uno su tre in modo che la risposta media ventricolare è bassa sarà 80 100 150 ma non certamente 300 cosa che invece il fascio anomalo non fa ma non fa perché perché la struttura è diversa mentre i fasci del nodo atroventricolare sono fasci calciodipendenti il fascio a nome è formato da fibre sodiodipendenti questo è importante per la terapia ok la loro differenza è questa è che mentre l'impulso che dal nodo del seno viene frenato qua non viene frenato qua passa subito passa subito e non si limita praticamente dice vabbè fa passare con velocità lì fa passare anche tutti quanti quindi può succedere con flatter 300 passano due 300 impulsi perciò è pericoloso come faccio ad accorgermi ad accorgermi che praticamente ho un fascio anomalo guardate di norma il nodo del seno lancia l'impulso che prende sia la via del nodo atroventricolare che la via del fascio anomalo qua per un attimo viene bloccato l'abbè detto qua invece passa subito e l'impulso comincia a depolarizzare questa porzione di ventricolo laddove il fascio stesso è indovato perciò si chiama pre-eccitazione quindi dire fascio di Kent fascio anomalo sindrome di Wolf Parkinson-Bite o pre-eccitazione significa dire la stessa cosa significa dire la stessa patologia cioè la presenza di questo fascio anomalo fatta da fibre sodio dipendenti che conduce l'impulso direttamente dal latro al ventricolo senza passare attraverso il nodo atroventricolare ok come faccio a capire che ho una sindrome di Wolf alias o un fascio anomalo alias che si chiama fascio di Kent alias io ho una pre-eccitazione ventricolare dall'onda delta che cos'è nel momento in cui questo fascio è arrivato nel ventricolo comincia a depolarizzare il ventricolo la identificazione scritta di questo fenomeno elettrico è data da questa gobba che si pone a questo punto qua che noi chiamiamo per definizione un'onda delta qualcuno ha detto la chiamerò onda delta tutti quanti noi chiamiamo onda delta è un'onda che poggia su un PR che normalmente esiste perché comunque questo impulso è arrivato qua e si è fermato e voi sapete che il segmento PR è dato proprio dall'impulso che qua per un attimo frena per cui l'onda delta sta su un PR che è normale però l'immagine è quella di un'onda delta con un PR corto ma il PR non è corto il PR sembra che sia corto perché su ci poggia l'onda delta allora se io ho questo paziente che ha il quaresso un po' slargato e capisco che questa è questa gibbosità e quest'onda delta su un PR che è corto ma solo perché è coperto dall'onda io dico questa persona probabilmente ha un fascio anomalo alias fascio di kend c'è una sindrome di wolf parkinson white cioè ha una precitazione ventricolare ok qual è il guaio di questa cosa qua uno dei guai è questo che questa persona può soffrire di un attacchi cardiatrio ventricolare da questo circuito da rientro perché immaginate che questa volta un impulso elettrico una ecotopia ventricolare va praticamente interrompe questo flusso che continuamente dall'alto verso il basso va per anni e per anni interrompe questo flusso anterogrado e crea questo circuito qua che si chiamerà atrio ventricolo atrio ventricolare atrio ventricolare si chiamerà ortodromico perché il fascio anomele è attraversato dal basso verso l'alto allora vediamo un attimo qual è la immagine scritta l'impulso arriva qua va giù l'attraversi il fascio di il complesso quares è stretto normale perché è condotto lungo il fascio di poi torna nell'atrio e retrattiva l'atrio attiva l'atrio ma dal basso verso l'alto tant'è vero che io in D2 D3 e da VF vedendo il vettore che si allontana avrò delle onde P invertite negative guardate questo percorso è comunque un percorso lungo ed è un percorso che costringe l'impulso in un tempo di almeno 70 millisecondi per cui se io dopo il complesso QRS trovo un'onda P invertita in D2 D3 da VF almeno a 70 millisecondi io ho fatto diagnosi di circuito atrio ventricolare ortodromico per esempio ecco qua vedete sto in D2 D3 da VF queste sono delle onde P da retroattivazione atriale un'onda P che sta a 70 millisecondi dal QRS è questa persona Serena aveva un'onda P invertita in D2 D3 da VF a 80 millisecondi quindi Serena ha una tachicardia da rientro atrio ventricolare ortodromica questa questo è tutto basta guardate anche lui ha vedete un'onda P invertita in D2 D3 da VF a 70 millisecondi qua poi vedete niente va bene perché c'è attivo un circuito da rientro atrio ventricolare ortodromico l'antidromica è rara per cui non ve ne parlo proprio anche perché tra l'altro noi siamo fortunati perché qualsiasi aritmia possa essere se il paziente è critico io non è che sto là a cercare di capire perché ho assolutamente bisogno di fare diagnosi io scarico ho la terapia elettrica intanto scarica il paziente va a ritmo sinusale poi discutosi su che cos'era quindi ho poi tutta questa necessità di capire nell'immediato che cos'è di fronte al paziente critico non ce l'ho ho l'esigenza di fare una diagnosi di fronte a lui che sta bene per cui devo capire quale terapia fare la pidonia di tipo farmacologico ora di fronte a questi eventi chiari di onde P invertite che sono ben disegnate in D2D3 da VF giustamente Oretto dice ma guardate ma mica è sempre così perché qualche volta io non ho delle onde vere più invertite ho soltanto delle incisure sempre a 70 millisecondi dal QRS ma delle incisure che possono darti l'immagine di una tia appondita di una gobba di cammello così come è capitato a me vedete questa cosa qua questa incisura lungo praticamente la fase discendente dell'onda T questa qua gobbi di gabbele che sono dei segni che si ripetono in continuazione ed in più derivazioni contemporanee non può essere un artefatto o un'invenzione è un'onda di attivazione atriale quindi questa persona sotto sotto praticamente questo segno sottendendo un circuito atrioventricolare di tipo ortodromico basta questo è questi sono i circuiti da rientro i più frequenti ed io me la cavo in questo senso se il QRS è stretto scarica 190-200 e non vedo l'onda P è soltanto un circuito nodale da rientro se invece io vedo un'onda P a 70 millisecondi a polarità invertita in D2D3DVF per retroconduzione atrale o un circuito atrioventricolare ortodromico basta ok Michelino che non c'è immagino se c'è dirà che non c'è Emiliano quindi Emiliano Emiliano questo per esempio scusa scarica 218 in borsa al minuto non vedi onde P il complesso può essere che cosa può essere se no non un circuito bravo Emiliano dillo ad alta voce circuito nodale nel lodo atrioventricolare nodale circuito nodale ok questo qua vedi non c'è diciamo slow fast slow fast e questo praticamente T invertita è tachicardico invertita in D2D3DVF almeno 70 millisecondi questo è il circuito atrioventricolare ortodromico ma tutto questo poi in fondo a noi che importa importa per la terapia interessa per la terapia che terapia faresti qua nel circuito nodale slow fast calcio antagonista perché essendo fibre e sodio dipendenti tu devi usare il calcio antagonista quindi verapamil o adenosina o adenosina tendendo prima la manovra del senocrotide e basta va bene che faresti invece qua il perfetto ma puoi fare anche il calcio d'antagonista non sono d'accordo allora allora ma ti dico subito perché allora tu un circuito dove lo interrompi lo interrompi basta che lo interrompi allora io posso interromperlo qua o posso interromperlo qua quindi se decido di interromperlo qua uso il calcio antagonista se decido di interromperlo qua essendo bravo fascio costituita da fibre e sodio dipendenti do il sodio bloccante il farmaco 1C ok e può andare bene chi mi dice che io non devo usare il calcio antagonista va bene perché potrei inibire questo in realtà non è adeguato in questo caso quello sarebbe opportune adeguato quella scelta se avessi un'attachigardia sopraventricolare per cui inibendo questo potrebbe prendere il fascio dist ma io qua non ho assolutamente niente ho semplicemente un circuito da rientro che si è creato da un extrasimono che è entrato nel sistema quindi io lo interrompo qua lo interrompo qua lo interrompo riprende normalmente il tutto con l'impulso che partirà di nuovo dal nodo del seno e prenderà in contemporanea le due vie andrà avanti ancora per anni ok quindi il senso della diagnosi è compreso nella capacità poi di formulare di orientarsi sulla giusta terapia ora ve lo dirò ve lo dirò ma non perché perché è importante saperlo anche perché è facile anche perché è curioso i circuiti rari guardate come esiste il nodale sul lupo se si stanghi il nodale sul lupo cioè l'exasimolo percorre prima la fibra rapida e poi quella lenta giusto il contrario ora cosa succede arrivato quello in busto va giù attiva il ventrico attraverso il fascio disse da complesso di quale essere stritta dopodiché lentamente lentamente va su al lato e retroattiva lato ma questo percorso è così lento ed è così lento che non impiega 70 millisecondi ma impiega ben più di 70 millisecondi tanto è vero che tanto è vero che l'onda P invertita da retroconduzione attraverso non sta a 70 millisecondi ma è così spostata in avanti che si può confondere con il quaresse successivo questa onda P invertita non appartiene a questo quaresse appartiene a questo a quello precedente chiaro? Emiliano se non è chiaro dillo voglio un caffè? ti porto un caffè? ah ok ok chiaro quindi vedete che questo è diverso dal circuito atrioventricular ortodromico non la 2 abbiamo detto che l'onda più invertita sta a 70 millisecondi al quaresse qua sta ben più avanti la stessa è questa non dalle fast slow la stessa cosa è la famosa tachiaria di cumel che voi avete sentito avete sentito e nessuno sa poi che cos'è ma tutti quanti dicono cumel cumel guardate la cumel è questa non è altro che un circuito atrioventricolare ortodromico in cui il fascio anomalo è a conduzione lenda non è a conduzione rapida basta ed è così lenda la sua conduzione che non impiega lo stimolo a retroattivare l'altro 70 millisecondi ma impiega ben più che 70 millisecondi come quella di prima tanto è vero che l'onda P invertita si avvicina molto al quaresse che segue e si confonde con questo in realtà appartiene a questa qua ok e quindi è semplice tutto là guardate i circuiti sono questi qua se io non trovo l'onda P è un nodale slovo-fas se la P ha 70 millisecondi o un altro venticolare ortodromica se sta ben più avanti tanto da confondersi con il questo successivo può essere ma sono rari questi due sono rari o una fascio-slovo o una tachycardia del cumel tanto è che se Emiliano che da questo momento sono convinto sarà sveglissimo perché ora lo torturerò se Emiliano trova questa condizione qua di due di tre ed AVF onde P invertite ora tu mai sai se questa onda P appartiene a questo o appartiene a questo qua e questo qua quindi se l'onda P appartiene al QRS precedente poi se ho un annodale fascio-slovo o un altro venticolare di cumel è simpatica questa cosa qua guardate anche questa vedete questa onda P invertita di due di tre ed AVF in tachycardia complesso stretto poi faccio la manovra e venito misurusale questo può essere una cumel o una fascio-slovo ok simpatica e questo è tutto questo è il mondo dei circuiti che tanto fa paura alla gente quindi volendo fare una sintesi delle sopraventricolari cosa abbiamo? fibrillazione atrale flattere abbiamo detto tipico comune non comune atipico bravo lui che ha interpretato bene la tachycardia atrale ectopica poi il circuito nodale da rientro se lo fosse il comune fascio-slovo è raro e il circuito altro vindicato ortodromico comune la cum è l'età basta piccoli segreti Emilia un nome a caso se tu hai questa condizione qua visto che c'è donato che poi non voglio togliere il diritto a donato allora tu hai questa condizione qua complesso quale s3 tonde P non ne vedi ad alta frequenza tu sai mi sai dire diciamo che tra 10 secondi se questa scarica 150 in bus al minuto è un flattere 2-1 basta è legge è dogma se io non vedo l'onda P però scarico 150 è un flattere 2-1 e te la cavi basta passi oltre ok così come e lo abbiamo detto se scarica 200 e non vedi l'onda P è un circuito nodale praticamente slow fast calcio antagorista ok facile facile e sempre tu Emilia tu hai questa condizione qua vedi allora sai 300 120 ok questa è un'onda di attivazione atriale tu pensi che possa essere una terodia sinusale con un bavuno o no guarda che di questi ce ne sono tanti Bix dice di no chi è Bix Bix era un austriaco che diceva guardate se ho durante una terodia compresso stretto nel bel mezzo trovo un'onda di attivazione atriale questo non può essere un'onda di attivazione atriale state certi che c'è una seconda onda nascosta nel compresso QRS quindi non è un'attachigradia sinusale con un piede lungo perché un'attachigradia sinusale con un piede lungo è un blocco atriventricolare vero quindi tu sei nel mondo dell'aritmia ipocinetica perché un piede lungo in un'attachigradia ventricolare in un'attachigradia sovventricolare vuol dire che veramente il nodo atriventricolare soffre in realtà non è perché c'è un'altra onda P per cui alla fine se trovi una condizione per la quale nel bel mezzo di due QRS stretti durante tachigradia trovi un'onda di attivazione atriale un'altra onda sta qua dentro per cui tutto diventa un'attachigradia sopra ventricolare condotta 2 a 1 quindi non è un'aritmia ipocinetica ma è un'aritmia ipercinetica questo serve per orientarvi ad indirizzare bene il caso clinico vedete questa è un'onda che sta nel bel mezzo qua c'è un'altra onda picco a dentro per cui diventa un flatter trattare l'atipico 2 a 1 bix ricordatevi di bix poi ok l'urgentista sempre un dossoccorso poveraccio ha un'aritmia del genere è chiaro che Emiliano ti fa subito la diagnosi ma se non c'è Emiliano e il poveraccio capita con me che sono un attimo meno attento io dico beh chissà che cos'è chissà che cos'è tu hai un'idea Mauro di cosa possa essere è un po' complicata la cosa allora non facciamo una cosa che invece dovremmo sempre fare la stimolazione vagale in una condizione del genere ci dobbiamo far aiutare perché nel momento in cui io stimolo il vago rallento il nodo attroventricolare quindi freno gli impulsi dall'alto le onde i complessi i QRS si allargono e vedo ben disegnate le onde di attivazione poi dalla morfologia e dalla frequenza delle onde capisco in che aritmia sto per esempio un nome a caso Emiliano Emiliano che aritmia è questa? perché un flutter? tu non vuoi dire un flutter ma vuoi dire perché? probabilmente un flutter perché scarica 150 impulso al minuto siamo là tanto è vero che tu fai la manovra e vengono fuori vedi le onde da flutter ok? oppure qua in questo caso qua ci sono delle incertezze scarica 150 c'è una festonatura che ti fa immaginare che possa essere ma se tu fai la manovra del seno crotideo vengono fuori le onde da flutter in questo caso tipico comune vedete quanto è importante non sempre è così ma molte volte è così a volte risolve l'aritmia la manovra del seno crotideo non risolve la fibrillazione atriale o il flutter ma ti puoi interrompere tutti i circuiti da rientro è come mettere un bastone tra i raggi di una ruota che gira veloce te la blocca i circuiti da rientro vedete questa qua che è Emiliano mi ha visto con gli occhi e mi ha detto subito che è un circuito nodale da rientro slow fast perché ha frequenza alta il complesso è stretto e non c'è l'onda P praticamente se la manovra si fa la manovra può succedere che vengono il sinusale ok a volte chiarisci il dilemma Emiliano per esempio questa è un'attachiglia di sinusale perché io vedo qualche cosa qua perché certo se non è un'attachiglia di sinusale può essere una fibrillazione natural perché vedo le distanze regolate cosa può essere un flutter devo sapere la persona ha febbre senza sepsi ed ha febbre io faccio la manovra e viene fuori il ritmo sinusale quindi questa è una tachigardia sinusale in aritmia fasica respiratoria tipica del settico non devi fare niente devi risolvere la sepsi ok un altro caso presingope arriva la persona 71 a in presingope con questo tracciato PQRS normale allora tu cosa dovresti fare presingope lo vai a posizionare in hobby tac cranio ecco color dopo la TSA poi fai fare l'oltre insieme allo stress test invece fai questo un attimo manovra e ti viene fuori il motivo della sincope di un'etimia ipocinetica importante questo va dopo 3 minuti dall'elettrofisiologo per posizionare a meno che non assuma farmaco cardioinibitore ma se è una sclerose se è una cardio sclerose perché è anziano è solo quello certo se fa digitale per dopo il canto calcio antonici non di droguitici io devo un attimo per esempio Emiliano tu conosci gli antidoti agli antiaritmici se fai se se fai il farmaco di class 1C tu conosci gli antidoti bravo non li conosci perciò tu sei qua dopo ne parliamo o conosci l'antidoto al verapamil e fa il cloro di calcio più volume per per vendere precari va bene quindi se fanno questi farmaci tu fai la terapia aspetta un giorno o due vedi che cosa succede ma se non fa questo e se mai gli anziani per cui c'è una cardio sclerose che ti motivi il tutto tu indirizzi subito dall'elettrofisiologo ok questo è il tipico la tipica manovra che si fa questo è quello che si fa nel bambino a test in giù in acqua fredda e lo si sciocca ora chiaramente le linee guida dicono attenzione io devo fare devo fare la manovra però devo prima incannullare una vena preparare atropine di adrenalina dopodiché però devo anche fare un ecocolor dopo perché è guai se la persona avesse un trombo mobile di tipo hard che possa accare e dare oltre al fatto che nel giovane è inutile che fai l'ecocolor dopo perché è difficile pensare che il giovane possa avere una placca hard mobile che parte va bene certo queste cose bisogna farle anche perché se la manovra queste manovre che ho fatto io chiaramente mi accusano di essere un violento in realtà no perché appoggiare appena praticamente la mano si ha questo arresto sinusale questi sono tutti impulsi da scappamento qua le onde P non ce ne sono praticamente arresto sinusale si può avere anche il non blocco atroventricolare importante ma ben vengono queste cose perché ti fa capire che al di là dell'aritmia ipercinetica c'è anche una disfunzione sottostante allora Emilia ti dico ma quante cose mi chiedi se io ho una condizione del genere in cui ho l'aritmia ipercinetica supraventricolare in quel momento sarà un circuito nodale o un circuito atroventricolare o un flatter e contemporanea faccio questo e mi si blocca che diagnosi faccio bravo faccio l'aritmia di braditachi ok per la braditachi tu che cosa fai metto il pacemaker e poi uso il farmaco per l'aritmia ipercinetica chiaro? chiaro voi state seguendo o vi state perdendo se state perdendo mi fermo però chiedete eh frenate ok andiamo avanti ora a che punto siamo siamo a questo punto qua abbiamo fatto le sopra le cinque aritmie supraventricolare da questo momento non dovete più dire ha un'attachigardia supraventricolare è troppo semplice tutte sono supraventricolari dovete solo cercare di capire se è una flatter atriale tipico atipico se tipico comune non comune se è una ectopica sono fibrillazione tra loro se è un circuito da rientro è troppo facile dire è una gradia supraventricolare dovete essere capaci di indirizzarvi anche perché con la diagnosi esatta voi sapete anche quale terapia eseguire ora è vero che tutte e cinque sono formate sono espresse con complessi QRS stretti è pur vero però che per completare il mondo delle temi percinelli di sopraventricolare e se stesse possono essere possono presentare dei QRS larghi QRS larghi o da blocco di branca preesistente o da blocco di branca abberante che significa abberante specialmente la branca destra se viene investito da impulsi ad alta frequenza stordisce e si ferma dopo che appena rallenda riprende e conduce di nuovo ma è facile fare diagnosi di questa condizione perché basta conoscere la morfologia nel blocco di branca noi sappiamo che il blocco di branca sinistra è dato da una onda S prevalente in V1 ed un'onda R alta prevalente in V6 il blocco di branca destra è dato da una prima onda R piccola S la seconda onda R più alta ed un S profondo in V6 se io conosco la morfologia del blocco di branca arrivo poi e non perdo tempo su questo il mio tempo invece devo perderlo sulle aritmie compressi larghi la cui morfologia non corrisponde a quello del blocco di branca ok e sono due è la tachicardia precitata tu sai cos'è la tachicardia precitata? non lo sai è quella condizione per la quale un'aritmia sopraventricolare sia essa flatter sia essa fibrillazione atelale sia essa tachicardia ectopica di fronte ad un nodo atroventricolare bloccato prende la via del fascianomero e questa è la seconda condizione per cui avere un fascianomero è un guaio perché avere il fascianomero abbiamo già detto che ti favorisce il circuito atroventricolare da rientro ortodromico ma ti potrà anche la tachicardia precitata ok questa è la tachicardia precitata l'altra condizione è la tachicardia ventricolare e i QRS sono larghi perché perché sia in questo caso sia in questo caso la progressione dell'impulso è muscolo mediato non è una progressione che avviene una trasmissione che avviene perché conduce lungo un nervo il fascio di isse o un nervo ma avviene muscolo mediato e per cui è lento anche se l'aritmia è veloce ma la conduzione è lenta del QRS è molto largo perché qua avviene vedete muscolo muscolo qua pure muscolo muscolo ecco perché il complesso è così largo ora un'altra cosa mentre io sulla tachicardia precitata posso soltanto sospettare che possa essere una tachicardia precitata e poi vi dico quale poche certezze abbiamo invece l'elettrocardiogramma mi fornisce elementi certi su diagnosi certa proprio sulla tachicardia che tutti quanti noi temiamo che è la tachicardia ventricolare ok e vi faccio sapere perché tachicardia ventricolare noi parliamo della tachicardia ventricolare fino ad ora è chiaro allora fino ad ora abbiamo fatto le tachicardie sopraventricolari fibrillazione atriale fibrillazione atriale anche dissociata poi abbiamo parlato del flatter atriale flatter atriale tipico macro circuito da rientro nell'auto destro che può correre in senso antorario comune e in senso orario comune accanto a questo abbiamo il flatter atipico che è il micro circuito da rientro sempre in atto adesso anche in atto sinistro per motivi diversi da patologie primitivamente cardiologiche poi abbiamo la tachicardia trale e cattopica che a noi interessa perché molte volte è l'espressione di una intossicazione digitale va bene dopo di che abbiamo fatto i due circuiti da rientro quello nodale slow fast è quello attroventicola ortodromi che sono i più comuni facili da identificare perché l'una non vedo l'onda p l'altra la vedo invertita a 70 millisecondi questi due circuiti sono rari però cumel sapete adesso che cosa è la cumel e l'altra praticamente la fast slow però sono due ritmi rari adesso siamo passati ai compressi larghi non sto a ripetere le supraventricolari condotto con blocco di branca perché dalla morfologia faccio diagnosi ecco non fermiamo su questo abbiamo però iniziato a parlare della ventricolare della precitazione delle trigadie precitate ok trigadie ventricolari queste fanno paura fanno paura ma solo perché in realtà non c'è chi vi dice ma guardate è veramente una sciocchezza perché sembra sembra che noi siamo bravi quando incutiamo timore e terrore negli amici più giovani in realtà è veramente una sciocchezza certo se fosse così sarebbe facile io vedo degli extrasimuli che si ripetono e bastano 5 in questo entegra di ventricolare ma non sembra così tant'è vero che poi ogni scuola di cardiologia ha composto un proprio interdiagnostico fatto di scalette cioè dissociato non dissociato si no se la manovra vagale si no vai allora voi immaginate che Emiliano caccia di fronte a un basente critico scioccato sudato con i parenti con gli infermieri che aspetta l'ordine lui è team leader se non arriva l'estesismo caccia un primo fogliettino per leggere queste scalette ma tutte e tre arrivano ai criteri morfologici di Brugada che sono questi e quindi caccia un secondo foglietto in cui deve vedere qual è la morfologia intanto il paziente ti guarda se non sta ancora in coma da deficit di circolo i parenti dicono dove sono capitate l'infermiero mi dice ma questo qua e quindi tu stai in difficoltà perché poi non è facile ricordare 16 morfologie per capire se è un attacchi cardia ventricolare o se è un blocco di branca non è facile e succede questo succede il nostro timore allora praticamente Francesco Curcio non c'è vero? non c'è se è salvato allora guardate questo può da subito sembrare un attacchi cardia ventricolare ma questa per esempio sembra un attacchi cardia ventricolare ditemi la verità no questa sembra un attacchi cardia ventricolare no assolutamente no ok allora ci torniamo su questi tre dentro un attimo cosa sono i criteri maggiori? i criteri maggiori sono quei criteri basta trovarne uno che noi abbiamo fatto di angi di di dichiaria ventricolare quindi se voi imparate questi criteri che sono semplici da ricordare è legge basta trovarne uno non c'è bisogno di seguire quelle scalette e poi di guardare le 16 in morfologia e quel resto basta trovarne uno per essere certi della diagnosi e quindi andare subito giù con la terapia i criteri maggiori sono questi primo criterio maggiore compresso esageratamente largo signori cari c'è una c'è una legge che dice che se supera c'è uno 60 millisecondi cioè 4 quadratini siamo al 97% specificita verso una tecchidia ventricolare allora se voi vi trovate di fronte a questo tracciato il cui QRS è 240 millisecondi voi avete fatto diagnosi basta è una tecchidia ventricolare primo criterio maggiore vedete Paolo ma quando voi avete questo complesso QRS ma che discutiamo più supera 160 millisecondi addirittura 240 è una tecchidia ventricolare secondo criterio catturo fusione allora statemi a sentire se io ho una tecchidia ventricolare l'impulso che viene da sotto arriva pure in alto schiaffeggi il nodo d'altro ventricolare caputo il nodo d'altro ventricolare non funziona più significa che nel lato il nodo del seno che normalmente funziona e normalmente conduce e normalmente contrae l'altro e normalmente io disegno l'onde P le onde P si fermano perché sbattono con un nodo d'altro ventricolare che non funziona per cui è bloccato non passano va bene e allora noi abbiamo le onde P che si fermano qua il QRS dati di ventricolare può succedere per un motivo che nessuno conosce che però qualche impulso dall'alto può passare questo nodo d'altro ventricolare completamente bloccato può passare per cui passa se va a disegnare un'onda P con un QRS stretto proprio da attivazione ventricolare per trasmissione dell'impulso lungo il fascio di Is o può succedere addirittura che mentre questo impulso scende si scontra con un impulso che viene dal basso che è dell'ectopia e c'è la fusione morfologicamente questo è come se questo è stretto la fusione è più largo di questo ed è più stretto di questo ebbene specificità 100% se io trovo un solo impulso di cattura ho fatto diagnosi certa di TV di terribile ventricolare il problema è che è poco frequente ma io ho sette criteri maggiori non ne ho uno soltanto andiamo avanti questo è un battito di cattura vedete è complesso questo poi c'è un battito di cattura PQRS PQRS questo è il battito di fusione che è più stretto di questo ed è più largo di questo ecco il battito di fusione avreste mai immaginato che questa è un'atreglia ventricolare? poi ci sono altri tre criteri maggiore che io vedo ma che anche voi tra dieci minuti vedrete però a me basta questo questa è una fusione e questa è un'atreglia ventricolare non sembrerebbe ma è un'atreglia di ventricolare c'è un altro criterio che sta qua 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 e qua cioè sono addirittura cinque in un tracciato che non sembra assolutamente un'atreglia ventricolare andiamo avanti questa è una cattura vedete complesso largo qua c'è la cattura qua questo è la fusione è un'atreglia ventricolare ok andiamo avanti terzo criterio maggiore concordanza positiva significa nelle precordiali se io ho da V1 a V6 tutte onde monomorfe alte chiamerò concordanza delle precordiali positiva specificità 100% ecco positivo 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 ecco positivo 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 compresso largo specificità 100% su un compresso che è più certamente più di 160 millisecondi concordanza positiva o negativa se è tutta negativa tipo in questo negativa 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 oppure in questo caso negativa 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 terzo ventricolare altro criterio maggiore chiaramente Brugada e tutti hanno detto però guardate se io ho tutto negativo da V1 a V5 a V6 un pochettino positivo considerato come negativo anche la V6 basta che l'inizio dell'onda R e la parte più estrema dell'onda S sia 100 millisecondi tant'è vero che questa persona vedete da V1 a V6 negativo 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 a questa condizione qua un pochettino alta però da questo punto a questo punto passano 100 millisecondi questa è considerata negativa questa ve la dico giusto perché l'ho trovata scritta su tutti i tracciati alto criterio l'asse signori ma se io ho quest'asse qua tra meno 15 e più 90 può essere una attegra di ventricolare no quella è una normale conduzione lungo il fascio disc sarà largo perché è un blocco di branca ma quella è una conduzione è una trasmissione dell'impulso lungo il fascio disc se invece ho una estrema deviazione destra ma certamente perché qua c'è un'ectopia ventricolare mica un impulso che scende attraverso il fascio disc e quindi se io ho una estrema deviazione assiale destra d'accordo che mi si identifica con la concordanza negativa di 1 di 2 di 3 cioè negativo di 1 di 2 di 3 e quello è un altro criterio maggiore di diagnosi certa di tachicardia ventricolare parliamo sempre di persone di 60 70 80 anni non della persona di 2 anni perché se ho un bambino di 2 anni possa avere una attivazione assedestra perché ha una cardiopatia congenita sempre del 50 anni del 60 anni chiaro allora guardate se io ho questa persona negativa di 1 di 2 di 3 complesso largo ma questo è un criterio maggiore che mi porta alla diagnosi certa di tachicardia ventricolare qua ce ne sono anche altri di criteri ma ok quindi l'asse estrema destra è criterio maggiore per diagnosi di tachicardia ventricolare altro criterio vedete quanti ve ne sto dando basta che ce ne sta uno che voi fate di angese il criterio di vere che è vero che la VR di norma è sempre a polarità invertita il complesso QR è negativo però se io tra oreto è vero che io non so chi più pazzo sia hanno incominciato a mettere in mezzo l'encisura la deflessione le distanze però a me interessano queste prime tre in genere se io trovo una VR così alta ho grande possibilità grande specificità anche se meno sensibilità che possa essere un criterio maggiore di ventricolare per esempio tu come ti chiami? Giampaola vedo che stai in deflessione negativa allora allora vedi Emiliano ci siamo allontrati da te vedi c'è qualcuno che stava poi tu farsi bene dopo a prendere un caffè glielo porti pure allora stiamo così Giampaola ora questa è una complesso a voi sembra un'atreglia ventricolare a prima vista no ok però c'è il vere che guardate c'è anche questa questa è un'atreglia ventricolare è parafascicolare ma è un'atreglia ventricolare vedete mentre questa non lo è perché la VR non rispetta i criteri di vere perché poi in fondo c'è una RS R1 alta e c'è una RS tipico del blocco di branca destra va bene andiamo avanti brugata non vi inviterò a ricordare tutte le 16 derivazioni però mi diverto di farvi ricordare l'orecchio di coniglio voi sapete che l'atreglia ventricolare può esprimersi con un complesso V1 V2 positiva tipo blocco di branca destra o con un complesso V1 V2 negativo tipo blocco di branca sinistra vediamo i primi quando l'atreglia ventricolare è spesso con un QR è salto in V1 V2 è blocco di branca destra quando l'orecchio di destra è più basso l'orecchio di sinistra abbiamo detto la prima R è più piccola della seconda R quando l'orecchio si inverte va bene guardate quando la prima è più alta e la seconda è più bassa questa è tipica della tereglia ventricolare cioè la prima onda R è più alta della seconda onda R e questa è bellissima perché la troviamo sempre ma andiamo avanti non solo questo vi voglio far notare un'altra cosa che Brugada senza saperlo non l'ha mai scritto ma lui ci fa capire che nei blocchi di branca in V5 V6 i complessi sono sempre alti positivi sempre invece quasi mai nella nella tv nella gradia ventricolare per esempio questo vedete Brugada questa è un'atacradia a tipo Broc di branca d'ess la prima onda R è alta la seconda onda R è bassa orecchio di coniglio invertito va bene e facendo il confronto in quanto Brugada ci diceva se in V6 abbiamo RS questo qua quindi rispetto a questa è un'atacradia ventricolare che non sembra ma è un'atacradia ventricolare vedete quante tecchie ventricolari vi sfuggono e allora verifichiamo Francesco non c'è ho un nome a caso Emiliano Emiliano allora questo qua sembra facile allora tutti quanti insieme cercatemi in questo i criteri maggiori state parlando tutti quanti quindi vuol dire che il concetto di indivendata allora intanto il cuore è seri è larghissimo basta questo è questa è quella è quell'immagine che vi dà la certezza della diagnosi perfetto però c'è una fusione vedete voi dovete guardare bene qua c'è una fusione vedete questo è più stretto di questo questo è una fusione abbiamo detto che aveva una specificità del 100% basta questo ma non c'è solo questo di uno di due di tre negativo tutti e tre deviazione assiale destra estrema un altro criterio maggiore avr alta vere che rispettato quarto criterio maggiore poi concordanza è tutto negativo quinto criterio maggiore questo ha cinque criteri non uno ma ne ha cinque ma già noi avevamo capito intuito adesso invece avete i criteri che vi devono guidare quindi dovete parlare secondo vediamo Roberto la storia di Roberto è una persona abbastanza giovane che io trovo su in reparto con il collega che mi dice guarda è stato questa notte giù ha avuto questa aritmia sopra ventricolare ho fatto il verap la denosina non è passata e te l'ho mandato su e io l'ho trovato su che camminava camminava adesso vediamo un po' il rispetto dei criteri maggiori il quale resta non è assolutamente largo non trovo cattura e non trovo fusione non trovo la concordanza nelle precordiali poi inizio a trovare quella di uno di due di tre inizio a trovare il vero inizio a vedere l'orecchio di coniglio continuo a vedere la morfologia di Brugada questa era un'atecretia ventricolare elettroshock tornata lì vedete perciò non passavo con la denosina con la andiamo avanti questa altra Sandra presingope non vi sembrerà mai un'atecretia ventricolare troppo stretto il complesso che noi ci aspettiamo i complessi enormi allora vediamo concordanza negativa va bene vero e che rispettato fusione tutto negativo che non è mai del blocco di Branca anche questo è un'atecretia ventricolare tanto è vero che quando è tornata dell'atecretia l'abbiamo capito e i quadratini sono quelli là non è falso che il suo vero quaresse è questo non è questo e questa era dunque un'atecretia ventricolare quindi se voi portate nella mente i criteri maggiori è tutto semplice è tutto facile e sono solo certezze non vi ho parlato dei criteri maggiori che invece i testi danno per primo dissociazione attroventricolare va bene che Oreto insiste su questa cosa qua in realtà perché non ve ne ho parlato perché per noi in area critica è assolutamente impossibile seguire cercare i criteri ed è impensabile vederlo come criterio maggiore perché per semplice fatto è altamente specifico però è poco sensibile perché è poco sensibile perché come fate voi durante un'atecretia veloce e duecento a capire immaginate il paziente è scioccato sudato l'ECG è artefattato a capire se quello è un AP o è un artefatto questo per esempio quali sono le onde P e quali sono gli artefatti questo quali sono le onde P e quali sono gli artefatti non è pensare poi con il compasso avere un compasso per vedere se non è assolutamente possibile almeno io non la vedo possibile non la vedo possibile ed è sensibile al 60% perché nel 40% dei casi non ho una dissociazione atroventricolare cioè un nodo del seno che funziona e l'impulso che viene frenato su un nodo atroventricolare bloccato ma abbiamo l'associazione ventricolare cioè l'impulso è così forte dal ventricolo che riesce a passare dal basso verso l'alto il nodo atroventricolare da retroattivare l'atrio nel 40% dei casi in genere 1 a 1 vedete QRS questa è una P retroattiva che segue il complesso QRS dell'atrigardia ventricolare questo è un 2 a 1 vedete su 2 a 1 e questo bellissimo 3 a 1 questa è un'onda da retroattivazione atriale ogni 3 impulso dell'attachigardia ventricolare chiaro? questo è un tracciato che io ho scoperto dopo il senso io me li conservo dopodiché dopo molto tempo ho capito che questo poteva essere una P retrocondotta in un'atrigardia complesso largo quindi radia ventricolare con l'associazione ventricolo-atrial va bene ok un'altra sfida allora tu Paola Paola allora Paola arriva a Medeva non ci sta vero a Medeva e Simone non c'è a Medeva e Simone ho venuto a parlare Paolo tu che cosa pensi di questo il complesso è largo quasi un orecchio di coniglio la prima onda è alta la seconda un pochettino più bassa potrebbe essere una retia ventricolare è vero anche secondo te potrebbe essere una retia ventricolare perfetto questo è un potassio di 8 e 9 questo a dire che voi il potassio non lo dovete scordare mai guardate noi sappiamo che il potassio lo sa allarga il complesso QRS se in circuito dalla T alta scompare praticamente l'attivazione atriale quindi non ho manco l'attivazione atriale e qui va bene quindi attenzione a non confondere la retia ventricolare con l'ipercalemia è questo che ti dice questo ve la dico subito esistono i cardiodilatati che vivono semmai col blocco di branca e che semmai fanno il farmaco uno ciclo non dovrebbero proprio fare il QRS si allarga peggiora per cui poi hanno un tracciato con delle onde di attivazione ventricolare che possono essere così larghe da confondere con una degradia ventricolare in realtà è il loro tracciato quello che si può fare è escludere il farmaco che allarga il QRS che a prescindere da ogni cosa bisogna sempre sospentere allora chi accetta questa sfida lui voi voi due dai voi due dai ok allora tre casi una sola allora mi arriva Eleonora giovane Savini potenzione arterios con una aritmia 300 regolare complessi l'archi poi arriva Luca 23 anni 280 aritmia regolare complessi larghi poi arriva Wanda 32 anni complesso largo guardate quanto è largo irregolare irregolare sono tre casi per un'unica aritmia lui allora lei 300 lui 280 e Eleonora 300 solo qua va in 2 a 1 però per il resto è 300 che ne pensate una gradia precitata no la condizione aberrante è quella del blocco di branca no questa è perché c'è una precitazione ora ti faccio vedere allora è una gradia precitata sono delle tre di precitata cioè allora come effettua a capire diversamente dalla trecidia ventricolare non abbiamo degli elementi certi però abbiamo degli elementi di altissima probabilità e la cosa funziona in questo modo basta sapere che i pazienti sono giovani sono pazienti giovani che non hanno cardiopatie se arriva a 20 anni con una teridia complesso larghi io ci devo pensare diverse se arriva a 70 anni ok poi i complessi sono larghi sono tutte quante un detesto sono ovviamente complessi larghi non esisterebbe più veloce vedete la tv la teridia ventricolare arriva a 220 230 240 questo arriva anche a 300 anche a 350 anche a 400 se ho una sessizione fibrillazione adrata perché abbiamo detto prima che sono dei fasci che fanno passare tutti gli impulsi dici tu vuoi passare la fascia non ti preoccupare a 400 se passate tutte a 400 il fratto è da 300 non vi preoccupate tanto a me non importa niente e il nodo atromedicolare è la che frena che filtra ma non il fascio anomalo ok allora vedete quando io ho una giovane a frequenza altissima a 300 ma che sapesse può mai essere una tridia ventricolare che patologia sottostante può avere cioè deve proprio essere un cardiopatico reale è vero ma quanti ce ne sono chiaramente le onde più non si vedono per cui emergenza vera perché perché se per caso passa due o può passare uno a uno e vedete che condizioni va allora come funziona la cosa funziona in questo modo e le onore 28 anni io devo dire ma cosa può essere se non un flattere precitato a 28 anni quando arriva Luca 23 anni con 280 compresso l'arche ma cosa può essere se non un flattere uno precitato arriva Vanda 32 anni con la fibrillazione una tale che a volte raggiunge anche i 400 ma che può essere una fibrillazione televecidata quelle sono le aritmie non è che ce ne sono altre arriva Giorgio guardate qua che frequenza alta il complesso è largo questo è compattato cosa può essere se non una fibrillazione televecidata così va quindi solo con l'etachiridia ventricolare o degli elementi certi gli otto criteri ne basta uno e facciamo diagnosi qua è di presunzione ma è di alta probabilità poi un'altra cosa un'altra checca o chicca chicco o chicca 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 è meglio chicca è un'altra cosa chicca guardate che è che nelle pre-eccitazioni i QRS in V5V6 sono sempre alti però un problema di asse è sempre alto cosa che invece quindi quando voi avete un'aritmia precedente con il compresso l'arco con il QRS V5V6 negativo non è mai una pre-eccitazione ok quindi è un'altra cosa un altro punto che dovete ricordare è con queste piccole cose che voi praticamente arrivate alla grande diagnosi ora quale terapia dai Emiliano dai non voglio colpire Paolo perché se no Paolo si sente lasciamo stare Emiliano per esempio che terapia fai ho praticamente un flattere pre-eccitato che quindi il nodo attroventicolare è bloccato e l'impulso passa solo da qua eh alza la voce il propafenone ti faccio la domanda faresti il beta bloccante? no lo vedo esitare però tu perché non lo faresti? perché non lo faresti tu? tu ti togli dal gioco allora state me a sentire perché questo è il allora non facciamo la digitale né il beta bloccante né il farmaco di classe 4 perché bloccano ulteriormente il nodo attroventicolare che è già bloccato se io lo blocco ulteriormente non avrò mai la possibilità di chiudere questo circuito perché gli impulsi prenderanno sempre solamente questa via ok? io non posso dare farmaco che mi perpetua questa via questo lo devo riattivare se tu hai beta bloccato il calcio antagonista ho la ho la digitale io me lo continuo a bloccare me lo continuo a chiudere mi peggioro ok? mai per questo motivo così come non posso dare la chisiloglina perché è dimostrato che aumenta la velocità del passaggio degli impulsi qua e non potete dare l'amiodarone perché si è visto che nelle prime fasi agisce come calcio antagonista quindi l'unico farmaco vero e lui ha ragione però a metà perché poi tutti i resti se l'hai scordato ha ragione a vedere il farmaco 1C perché essendo queste fibre sodio dipendenti quello è un farmaco sodio bloccante va bene ed infatti classe 1 raccomandazione A dall'IAC linea guida aggiornata al 2013 ok quindi in realtà poi se ci fate ben gas io nelle tachicardie nelle quali ho coinvolto il fascio anomalo che è la tachicardia atroventricolare ortodromica o la tachicardia precitata va sempre bene se uso il farmaco di classe 1C perché o là nel circuito da rientro o qua mi blocco sempre il fascio anomalo e va bene quindi alla fine se io non volessi sbagliare se io stessi nel dubbio guardate che anche nella tachicardia ventricolare qualche test parla non di terapia elettrica ma anche di farmaco di classe 1C potete sempre tentare per quando io nella tachicardia ventricolare che qualche volta di schemia sparo l'axilocaine diciamo poi bisogna andare a tre bene allora è chiaro è chiaro anche questo poi questo ovunque lo leggete se poi alla fine non avete capito niente fate fine che sia una tachicardia ventricolare scaricate praticamente la corrente e Emiliano dimmi un po' se io ho un tachicardia ventricolare con polso o senza polso devo fare la terapia elettrica mi serve questa indicazione o no guarda se non mi dici bene te ne vai fuori da quest'aula tu sei un difusso della Juventus meno male altrimenti peggioravi le tue cose allora faccio la domanda e la faccio allora io ho detto per caso che in realtà alcuni test scrivono che anche nella tachicardia ventricolare va bene il farmaco 1C bene in realtà nella tachicardia ventricolare io devo scaricare devo fare la terapia elettrica terapia elettrica che comprende la cardioversione o la defibrillazione io nella tachicardia ventricolare posso cardiovertire se c'è una condizione defibrillare se c'è un'altra condizione se non c'è polso defibrillo quindi non metto il siglo se invece sento il polso metto il siglo ne va vabbè poi mi offri un caffè allora andiamo avanti è inutile dirvi la fibrillazione ventricolare non c'è PQRST tutto aspetto sinusoide onde alte che degeno in onde basse a questo punto bisogna adevance cardiac life support perfetto allora un nome a caso Emiliano Emiliano sta a sentire allora che cos'è questa una fibrillazione ventricolare perché guardate queste sono cose che tutti i giorni noi vediamo non è un'altra che la diventerà che cosa può essere che cosa può essere vedete è una teichiridia ventricolare polimorfa perché ci sono alcune onde che sono ben organizzate quindi la famosa teichiridia ventricolare polimorfa che ovviene fuori durante ischemia miocardica qua c'è una transmoralità necrotica per rottura di placca praticamente vedete queste sono delle onde altissime o viene fuori nel prolasso della valvola metallica perché il vero prolasso è pericoloso per questa erittemia o durante la tecnica per l'angiografia cronarica l'angiografia cronarica perché viene fuori questa teichiridia qua quindi questa teichiridia ventricolare polimorfe tipica o dell'ischemia o del prolasso o delle angiografie cronariche ok andiamo avanti questa qua per esempio Emilia alza la voce è una o una torsione delle punte in realtà praticamente è la ipocalemia quindi una torsione delle punte allora andiamo a sfattare un'altra cosa anche quella di prima poteva essere definita la torsione delle punte allora definiamo la torsione delle punte se si basa su una visionia tipo ipocalemia ok in cui il Qt si allunga praticamente un R su T ti dà questa risposta ripetitiva guardate questa è 2,64 ma su un pH di 7,12 questo è ben più basso di 2,64 perché nella correzione si avrà poi un rapporto di 0,6 a 2,01 questo è come se fosse 0,8 e guardate un'altra cosa il coraggio che io ho avuto di cadere nella immoralità assoluta perché io per fare leggere a voi oggi questo qualche anno fa ho atteso la cura della signora nel senso che venne praticamente il 17 ferbari alle ore 9,43 questa era una vecchiarella poi ho scritto questo ma era una vecchiarella con questo tracciato cutti lunghissimo avete mai visto un cutti così lungo con dell'extra su T e con questo segno biochimico di ipocalemia io ero convinto che prima o poi avrebbe fatto la dosione delle punte per cui me la porto su me la metto a letto numero 3 e qua arriviamo alle 9,43 vedete alle 10,48 succede questo quindi io registro dopo faccio la terapia che è quello del potassio e del magnesio ok allora domande sulle ipercinetiche 20 minuti ci facciamo anche le ipocinetiche vabbè stiamo in tempo allora piccole sfide allora le aritmie ipocinetiche sono o da blocco da malfunzione del nodo del seno o da malfunzione del nodo atrioventricolare perfetto se non funziona l'uno non funziona l'altro vuol dire che l'impulso non passi o la pausa vi faccio una domanda Michele Schiavone c'è? allora un nome a caso Emiliano Emiliano però Emiliano vieni qua vicino no devi alzare la voce però devi alzare la voce allora Emiliano stai a sentire questa situazione qua è da disfunzione del nodo del seno o del nodo atrioventricolare perché? perché non vi te l'onda più bravo complimenti ti dico questo perché tanti medici ancora scrivono blocco atrioventricolare in realtà non è un blocco atrioventricolare perché il blocco atrioventricolare presume che il nodo del seno funziona attiva l'atto faremo l'onda P e poi l'onda P non è eseguita dal QRS ma se non c'è l'onda P vuol dire che il nodo del seno non ha proprio funzionato quindi la disfunzione del nodo del seno che per quanto possa essere grave è un po' meno grave della disfunzione severa del nodo atrioventricolare va bene così come chiaramente questo è un blocco atrioventricolare è una disfunzione del nodo atrioventricolare va bene detto questo quindi prima cosa cercare sempre quelle onde P il più frequente è questo è inutile dirvi è il Mobitz in cui questo tempo RR è il doppio di questo va bene cioè salta ora non sto a parlarvi del fenomeno di è abbastanza semplice che mal che va se non riusciamo a capire niente abbiamo la terapia elettrica ed è facile la terapia elettrica perché chi vuole poi informarsi legge i testi veri ma su questa base riesce poi a capire tutto e questo è il senso del nostro incontro non che noi in due ore in due ore e mezzo riusciamo poi a capire assolutamente niente ok e quindi questo è chiaramente arriva il momento in cui il nodo del seno non funziona proprio più e quindi io ho l'arresto cardiaco a quel punto mi serve De Laurentiis che ci salva e che solo si decide di comprare qualcuno di forte perché altrimenti siamo messi male vabbè per non morire zio Aurelio aiutaci tu ok questo è un arresto sinusale a un certo momento c'è un battito di scappamento cioè di salvataggio e il cuore riprende cosa significa significa che stami bene a sentire significa che noi le fibre nel cuore sono di due tipi fibre peacemaker cioè sono quelle fibre capaci di far nascere l'impulso e fibre di lavoro sono quelle che invece l'impulso lo trasmettono e portano a contrarre le fibre peacemaker hanno un potenziale di azione non c'è la fase 0 va direttamente dalla fase calciodipendente le fibre di lavoro hanno un altro tipo di potenziale di azione ora se il nodo del seno e il nodo dell'attroventicolare non funzionano per salvarsi il cuore lo sente la difficoltà e alcune cellule decidono va bene allora io mi trasformo da cellula di lavoro a cellula peacemaker trasformo cioè il mio potenziale di azione che diventa da 0 da fase 0 1 2 3 4 a fase 2 3 4 e quindi riesco a far diciamo a far nascere e trasmettere impulsi tutto questo può succedere nell'altro nella giunzione o nel ventricolo va bene va bene vi ho portato solo alcuni esempi per esempio Francesco mi direbbe non c'è l'onda P è lenta quindi c'è un arresto del nodo del seno la situazione è questa il nodo del seno è arrestato non c'è nessuna cellula nell'altro che è stato capace di trasformarsi a cellula di lavoro a cellula peacemaker è successo che nell'aggiunzione la cellula di lavoro si è trasformata in cellula peacemaker l'impulso va giù e dal complesso quaresse va là retroattivo e anche in questo caso l'onda P è complessa nel quaresse per cui alla fine io avrò non vedo l'onda P perché sta nascosta nel quaresse è lento il complesso del quaresse quindi il nodo del seno è arrestato e c'è lo scappamento aggiunzionale qua invece che cosa è successo? è successo che lo scappamento è ventricolare nel senso anche qua non vedo le onde P il complesso è largo ed è molto lento e tutti quanti noi sappiamo che lo scappamento dall'alto verso il basso si presenta con una frequenza sempre più lenta quindi questo è un arresto seno-atriale con un focolaio di salvataggio ventricolare chiaramente questo è il momento più delicato più deteriorato praticamente della vita del ventricolo e questo basta non vi dico di più perché poi le resto sono fregnacce ora voglio darvi il senso del BAV di secondo grado che noi diciamo BAV di secondo grado è primo tipo primo tipo secondo grado non si capisce niente io voglio solo dire questo allora che cos'è questo Emiliano? non è un BAV 2 o 1 vedi? PR si allunga si allunga si allunga e si arresta ok? questo praticamente è un fenomeno benché BAC ok questo invece P-Bloccat 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 blocco altro di secondo tipo praticamente con P-Bloccat quindi tipo Mobitz ok? quindi secondo me è conveniente ed è adeguato non rifarvi alla nomenclatura secondo cui grado di secondo grado primo tipo secondo tipo tenete presente soltanto il fenomeno di Mobitz e il fenomeno di Wengerbach perché? vi spiego subito il fenomeno di Wengerbach voi sapete che il nodo attroventicolare tutto questo non è solo questo è tutto questo ed è formato da una testa e da una coda la testa è costituita da fibre calciodipendenti la coda è costituita da fibre sodiodipendenti ora quando io ho una sofferenza della testa del nodo attroventricolare di fibro calciodipendente ho il fenomeno di Wengerbach c'è il periodo di refratterietà si allunga sempre di più tanto è vero che l'impulso che viene dall'alto passa ma deve scavalcare la refratterietà relativa scavalca scavalca fino a che ad un certo momento si trova a cadere nella refratterietà assoluta e l'impulso viene bloccato ok questo è il fenomeno di Wengerbach è il fenomeno di Wengerbach è un fenomeno transitorio prima o poi passa vi potete permettere il lusso di un attimo di tranquillità pensare perché non evolve diverso è il fenomeno di Mobitz il fenomeno di Mobitz significa la sofferenza delle fibre sodiodipendenti cosa succede che all'improvviso la refratterietà relativa scompare diventa tutto assoluto e l'impulso che viene dall'alto sbatte contro le fraternità assoluta e non passa e quindi l'AP viene bloccata perfetto l'informazione è questa che il fenomeno di Mobitz invece è evolutivo non avete molto tempo dovete subito intervenire con specie se un infarto anteriore con Pischia e mi dovete mettere un introduttore e prepararvi all'elettrostimolazione ok come questa per esempio guardate tutto è un DAP bloccato e abbiamo dovuto posizionare un PischiMaker ok quindi vi ho voluto dare il senso delle cose perché poi tutti quanti voi si avete più bloccato però per esempio io ti dico una cosa tu prima hai detto 2 a 1 però lo chiedo anche ad Emiliano non a Paola perché la vedo un po' in difficoltà allora il blocco 4 vendicolare 2 a 1 è un Mobitz o è un Wengerbach Emilia eh? è un Mobitz o è un Wengerbach no può essere un Mobitz o può essere un Wengerbach perché quella più bloccata può essere la più bloccata del Mobitz ma potrebbe anche essere l'ultima Pia quindi di fronte al 2 a 1 mantieni l'allerta più alta perché c'è gente che ha 2 a 1 2 a 1 quindi così come un'altra domanda il Bav1 di una persona di 23 anni che ha un PR di 220 secondi voi scrivereste Bav1 sull'elettrocardiogramma? c'è gente che lo fa scrivete PR 220 milisecondi ma la persona giovane può avere un PR lungo perché è un atleta per simulazione vagal non è una malattia così come se io ho un 240 e sono eterico e tu mi insegni che i sali biliari possono imbrattare e quindi allungare ma quella non è una malattia primitiva cardiologica diversa invece se tu trovi un 240 durante una trasmoralità necrotica quella evolve quindi anche nel Bav1 bisogna dare il senso alle cose tanto meglio se tu hai un tracciato in teoria ma quasi sempre è successo è un tracciato di qualche tempo prima che ti fa vedere che il PR o era lungo così o era un po' più corto allora il significato di evolutività chiedermi no chiedermi chiederti allora quello quello provendo è un ritmo del nodo coronarico del seno coronarico cioè è un impulso che parte dal basso non passa dal nodo del seno parte dal basso ma qualche volta è fisiologico sempre per sempre per simolo vagale questo sì allora abbiamo quasi finito allora allora guardate allora abbiamo parlato del della disfunzione del nodo del seno e del nodo altroventricolare quelle più importanti ora se il nodo altroventricolare è bloccato completamente può essere bloccato a due livelli guardate Emiliano tu parli troppo io ti interrogo Emilia guarda il BAB totale può essere bloccato a livello del nodo o a livello dell'aggiunzione va bene allora se è bloccato a livello del nodo vedi le onde qui vengono dall'alto sbattono con un nodo altroventricolare bloccato e si disegnano sull'elettrocardiogramma di superficie dall'aggiunzione l'impulso va giù e con regolarità da il QRS stretto però che cosa notiamo notiamo praticamente le onde P che si avvicinano e si allontanano dal QRS ok andiamo praticamente alla ipotesi in cui il blocco è un po' più basso nell'aggiunzione allora l'onda P è sempre attiva il nodo il nodo del seno è attivo l'onda P sia me la disegno qua anche se viene bloccato il nodo altroventricolare però sull'ECG di superficie me la disegno a questo punto nasce il focus di scappamento osiliario che va dal basso verso l'alto dando il complesso lento ma a QRS larghi e anche qua notate che l'onda P si avvicina si allontana si avvicina cioè io per fare diagnosi di blocco atroventricolare devo guardare l'onda P se l'onda P è ballerina attorno al QRS io ho fatto diagnosi basta questa è l'unica informazione che voglio dare per fare la diagnosi ora chiaramente vedete vi faccio qualche esempio l'A.P quasi allontana quasi avvicina quasi allontana quasi avvicina chiaramente l'A.P ha la sua vita con i suoi tempi va bene e il QRS ha la sua vita cioè sono dissociati l'altro vive per fatti suoi e il ventricolo vive per fatti suoi P ballerina blocco atroventricolare totale questa guardate se voi vedete quella pista qua poi si allontana poi si avvicina poi si avvicina ancora poi di nuovo qua vedete vedete proprio è ballerina si sposta attorno al QRS P ballerina anche in questo caso blocca a treventricolare totale cioè essendo il complesso QRS è stretto praticamente lo scappamento è alto guardate qua la P quasi si allontana un po' si allontana si allontana quasi allontana un poco quindi la P che va avanti il QRS è stretto anche qua blocca a treventricolare totale con un QRS che dà uno scappamento alto vedetele qua vedete questa è l'onda P sta qua che vive per fatti suoi con un compasso riuscito a determinare questo è il QRS pretende dell'ittomo da scappamento ok anche questa questa è l'ultima praticamente vedete P QRS e P QRS improvvisamente la pausa ci sono dei complessi QRS larghi che sono nei confronti di questo che è stretto e non notate P vedete ok quindi questo è un blocco trubinicolare totale con uno scappamento ventricolare ok io però era finito qua però visto che ci sono ancora cinque minuti voglio coinvolgere Emiliano e tutti quanti voi nell'ultimo sacrificio abbiamo finito in tempo allora che cos'è questo è un bel tracciato che riassume un pochettino tutte le vostre attenzioni poi ci sono le domande io chiedo scusa altri secondi andiamo però questo è un bel sì d'accordo certamente è una 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 allora ragazzi diciamo che questo è il ritmo di base perché questo è un extrasimolo questo è un extrasimolo quindi il ritmo di base è questo va bene c'è l'onda P perfetto allora se non c'è l'onda P il nodo del seno funziona? no, arresto sinusale e quindi questo che cos'è? è uno scappamento a quale resta estretto dell'aggiunzione quindi prima cosa arresto blocco seno arresto seno atriale con scappamento aggiunzionale ok questo qua è l' extrasimolo che si ripete quindi è un bigeminismo extrasistolico l'onda P come è negativo di 2 di 3 da VF quindi lui prima l'ha detto c'è un bigeminismo extrasistolico sopraventicolare basso del seno coronarico quindi arresto sinusale scappamento aggiunzionale con bigeminismo extrasistolico dal seno coronarico vedete quanto è bello? con praticamente su una ST elevata in D2 di 3 da VF ma anche in V4 V5 V6 quindi vuol dire che l'infarto è inferolaterale però con una ST alt nelle destre vuol dire che è compromesso il venticolo destro perché probabilmente l'ostruzione a livello della destra alta dominante quindi questa è una necrosi per localizzare domani mattina facciamo il sindaco coronarico se non siete stupidi venite ok vuol dire che tu hai un'ostruzione della coronaria destra all'ostio coronaria destra che domina per cui in possesso della destra sono le interventricolari posteriori e il colpimento di ventricolari posteriore è dato dalle ST alti in V4 V5 V6 perché gira e va dietro va bene basta così ok sarebbe questo ok grazie grazie